Attenzione, attenzione all'inganno, perché adesso Conte e Gualtieri vi diranno che il mess che loro riusciranno a strappare non è il mess brutto, sporco e cattivo di cui si parla tanto, è un mess più buono, è un mess caritatevole, misericordioso. Attenzione, attenzione all'inganno! La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stata convincere il mondo che lui non esiste. Eccolo, era quello che diceva Baudelaire, la beffa più grande del diavolo è convincervi che lui non esiste e quindi vi diranno che il mess che strapperanno è un mess senza condizioni, è un mess che ha tutto nostro vantaggio e che ci servirà per ripartire. Allora, attenzione, per prima cosa vi dico, vado a riguardare i regolamenti, vado a guardare le famose normative e che cosa dice il regolamento? Regolamento Unione Europea 472 del Parlamento Europeo del Consiglio del 21 maggio 2013, quindi quello di riferimento, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria. Ok? Attenzione, questo è il regolamento che all'articolo 7, all'articolo 7.5 dice quanto segue, attenzione, programma di aggiustamento macroeconomico. Il punto 5 ti dice che non hanno bisogno dell'autorizzazione per cambiare le condizioni. La Commissione, d'intesa con la BCE e se del caso con il Fondo Monetario Internazionale, esamine insieme allo Stato membro interessato le eventuali modifiche e gli aggiornamenti da portare al programma di aggiustamento macroeconomico al fine di tenere debitamente conto, tra l'altro, di ogni scostamento significativo tra le previsioni macroeconomiche e i dati effettivi anche alla luce di eventuali ripercussioni derivanti dal programma di aggiustamento macroeconomico, da ricadute negative e da shock macroeconomici e finanziari. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta decide in merito alle modifiche da portare a tale programma. Questo per dire che se non cambiano le condizioni le possono cambiare in corso d'opera e allora quel maledetto prestito che ci danno adesso è un prestito che è tipo la mela avvelenata di Biancaneve. Voi mangereste una mela avvelenata sapendo come va a finire la storia? Certo che no! Noi non dobbiamo mangiare la mela avvelenata del MES perché il MES rischia di essere, anche nella formulazione di Conte Gualtieri, rischia di essere un prestito privilegiato, in gergo tecnico si chiama prestito senior. È un po' come se fosse un'ipoteca, quindi viene prima dei BTP. Quindi chi detiene questo prestito garantito, questo prestito senior, può andare tranquillamente anche, uno, a chiedere la patrimoniale, due, a chiedere che comunque si intervenga attraverso una ristrutturazione del debito, si intervenga sulla sanità, sul welfare, sulle pensioni, sull'università, sulla scuola, sulla ricerca, sulle privatizzazioni di quello che rimane dei gioielli di famiglia. Altro che rivedere attraverso le nazionalizzazioni il processo delle privatizzazioni. Questi rischiano ancora una volta di farci pagare Dazio perché soldi gratis non esistono in questo mondo, a meno che tu non sia una banca centrale. E che cosa sta facendo la Federal Reserve? Nonostante tutto, sta comprando il debito americano illimitatamente. E allora se la BCE vuole dimostrare di costruire un'Europa politica, deve comprare illimitatamente. Crea denaro dal nulla, illimitatamente. Non è possibile che ti metta una cifra e dopo ti dica, vabbè io te l'ho messa lì, intanto però tu ti fai il MEF. Il MES, scusate, perché questo è il vero limite. Allora vi leggo anche un altro pezzetto che arriva dall'Huffington Post, che ci mette un pochino in guardia. Allora, vediamo, è test di solidarietà. Ok dell'Ecofin alla sospensione del patto di stabilità, ma la partita vera inizia adesso, perché Olanda e Germania puntano i piedi sul MES e sull'Eurobond e sulle condizioni del MES. Loro lo dicono chiaro e tondo. La sospensione delle regole, che per anni sono state il dogma indiscutibile dell'Unione, è una presa d'atto di una situazione già determinata. L'Italia in primis, come primo paese colpito dal coronavirus, e gli altri a seguire. Quindi nel comunicato finale dell'Ecofin si sottolineano che i ministri restano pienamente impegnati al rispetto del patto di stabilità e crescita, che quindi si ritiene soltanto sospeso e non sepolto. Allora, quando si tratterà di restituire questi soldi? In che condizioni, secondo voi, si trova il paese? Un paese che sarà sdraiato nella sua economia reale e ci metti pure la bomba delle restituzioni. Il MES non va firmato in nessuna, in nessuna formula. Punto. Basta. Io prego tutti i parlamentari di guardarsi allo specchio e di pensare all'Italia che ci sarà tra pochi mesi, che sarà un'Italia profondamente ferita, profondamente lacerata. Quindi no MES in nessuna delle sue formule magiche, perché il più grande inganno del diavolo è convincervi che non esiste.